Devo crashare o tranquillo? Ma per me sei tranquillo E prendite lo shit! Lui non è da tranquillo Oh madonna E niente, non c'è nessuno, vado al modello ragazzi Ti conviene mi? A 6 ce n'è uno Un team Al modello un team? No, qua da me Pure qua Eh, siamo nella merda La vita è che hai recuperato prima volta Sì 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 Porca balorca Team 2 Scalpe giganti Sì tipo Sì sì C'è una scala, c'è una scala, c'è una scala Qui da me, qui da me Eh Abbattuto, abbattuto, abbattuto Che Jure ti serve una shield, vero? Sì Che cosa ti serve un pompa? Che pompa è? Eh, bianco Multicord Sì Il bianco è quello ci sta Infatti 3 Ok Effettivamente mi manca uno, eh Però Nooo Quelli sono i shieldini che ecco Dai Tu prenderi tu Chi non può qua, eh Sì Da me Io Vabbè io vengo Con sicurezza Altro E mezzo a me è morto quello, eh Ben di che Ma è tre Vabbè Alessio Raimondi Due ore a vent'ora saluta da Alessio E Matteo Ti veniamo dal letto Bella ragazzi Oh il pompa tattico quando vuole fai danni Facendo due poi arriva a fare sette Uh Buongiorno Jure Pompa verde tattico lo vuoi? Sì Jure vieni qua da me È un momento Prendo il testo Ma sapete che tra l'altro L'altro giorno, no? Stavo Ho imbastito una discussione È imbastito È imbastito È imbastito Eh Una discussione con un amico mio E stavamo Stavamo facendo dei paragoni Un po' Un po' così, no? E stavamo paragonando Il torrone al cioccolato A quello bianco Meglio quello al cioccolato No E tra l'altro Lui dice che quello là Bianco è più duro Di quello al cioccolato Il marrone È duro? Quello bianco Dice che è più duro Io voglio sapere Secondo voi Marika che ne pensa? Eh Secondo me Marika che cosa ne pensi? È abbastanza duro Non sia molle Sia abbastanza duro Eh Immaginavo Immaginavo Chiede una cosa, no? Ti sa anche il torrone bianco Quello un po' morbidino O O O O Comunque c'è quello duro Tu quale preferisci per i due? Quello morbido o quello duro? È abbastanza duro Ah Ho capito Abbastanza duro Ho capito Però non c'hai paura Che ti fai male i denti No Però Ad esempio Se parliamo di una cosa Ti piace che ne so Il pane bello morbido Quello là tipo panino all'olio O ti piace un bel pane croccante Marika È abbastanza duro Non sia molle È abbastanza duro Ho capito Quindi Vabbè Vai ai punti su quelle cose là Eh no Interessante Sapere I gusti di una persona Tra l'altro Tra l'altro Ci sparano Ci sparano 300 Marika Dopo ne parliamo Albero Oh Novanta Ancora? Ragazzi Stavamo parlando Del fatto del parquet Perché io a casa mia sto mettendo il parquet Il parquet Di solito risulta Più morbido Sotto i piedi Anche se è di legno Secondo te Il pavimento dovrebbe essere più morbido O più duro Marika? È abbastanza duro Non sia molle È abbastanza duro Ho capito Beh se facevo molle Facevo un campo determinato De cose Marika Quindi Non lo so Non lo so Non lo so Siete pompa E' piccolino Ma ancora? No Sono piccoli Ma qualcosina Proprio Io ho tre shieldini Non si può stoccare Eccoli 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 Che senso? Visti? La La che ecco E Non so Ma hai sparato Ma mi hai sparato a me Iure No Sotto Ce l'avete Sotto Ce l'avete Com' fanta Visti Vedrai dei shieldini Lui Eccoli Eccoli Piole Tutto bene C'è anche un medica Piole Non respirare Mi sento Rambo Se davessi io che mi sento stronzo Non mi sento Rambo Ragazzi io sto facendo una battaglia infinita E non mi vanno Ti lo decimo, ora pure io 25 26 54 E dai vai giù Giù dai E cosa te mi sembra che ce n'era uno Sta ballando Eh balla su sto cazzo I tagliari del caracchio Ma porco te Colpito e cato una volta Mi servono medie assolutamente Mi servono medie assolutamente E' un fantasma grazie al cazzo Eccolo Mi ha rotto le palle Io l'ho rizzato e mi ha dato il danno Non me l'ha dato Bugiardo non l'hai preso E invece? No Io mi fido di iure Come te non dico le bugie Ah E' per quello che c'è un naso così grande Sì Visto L'ho visto Est Da Es Sopra di noi Ero io 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 Duro Duro Ah da nord Fuite 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 Ce n'è stato uno qua comunque Ha battuto Non lo so L'ho crepato Dio Granate Morti Granate Vado a restare iure Vado a restare iure Dai io così riesco Rianimate iure Per te non parla Madonna quanti Dove sono? Da tutte le parti Ottimo Prendioli i shieldini Avete bene No Quanto legno avevi Sono full Ragazzi ma tutti Tutti appiccicati Dove cazzo sei? Cazzo Prendi lanciagranate Cosa? Non di no Lanciagranate che c'è Io ho lanciagranate Ce l'ho pure io Lanciagranate Allora tutti lanciagranate Allora lo tolgo Vuoi questo Vuoi i shieldini? No no I shieldini li ho Ok Oh merda Merda Prendi Ma c'era cazzo E' qui sopra Materiali ne avete? Qualcosina si A me ragazzi No da me Cazzo due ragazzi Uno è bianco Dai che bianco Yure mi resta Yure mi resta Voi altri giocate Arrivano altri Yure Mi facciamo Come so Chi è? Esci 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 Morto quello che Ti sta pushendo Da me ragazzi Da me ragazzi E urge urge Cazzo sto sparando il mio Alleato Da me No no ce la facciamo Ce la facciamo Dai Da me Da me devo L'aprimi Da me raga Ma cazzo Sono fuori i miei alleati Morto 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 No 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 Ce l'ho io Materiali Dammi qualcosa Allora Dove sei tu Cazzo Arrivo Piccolini ce l'avete? Si 159 Tienimi Ti prendi tutto Prendi tutto Mi Ho preso Ho preso Com'è? No no Bende 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 Si sparano Si si sparano No non si sparano No se sparano col cazzo Ecco che fanno Se ne sono andati da quel fortino eh Cioè non propriamente Eh ma Sono non Ci dobbiamo anche a film A cura 100 Cazzo Che co Ti è Proprio Non schifezza Ti è Scusiamo Avvicinarci Un lanciagranate Io pure C'è un lanciagranate Possiamo fare Una bella Pusciata Ma non ho capito Se sono insieme O se sono separati Cazzo Mi sono insieme Pensiamo di come Se fossero insieme Io riparto da sotto E pushiamo Perché Avete costruito pochissimo Dai dai Dobbiamo pushar Ma chi l'ha fatto? Raga però Mi è stata a fancazzare Dovemmo fare le scale Raga Venite qua Venite qua Proviamo a pushar Questi a sinistra A destra Poi per le scale Poi per il tetto Qualsiasi cosa era Possiamo mangiare Dai A destra A destra Dai Io non c'ho materiale A destra Lancia granate Lancia granate A destra Qua cagli la fascia Stronzo Vai Bene Ammazzato Preso Raga Mi cazzo Le granate Non ce l'ho Sto la faccia Vina minchia È morto quello È morto È morto Quello è morto Quello è morto Ha battuto un altro Ultima granata Ok 28 362 Quello è un mer Ok Bella partita E papà Se non ci tostate Cisciamo Cazzo Wow Eh Wow